Ben trovati al nono capitolo del corso di montaggio video con Adobe Premiere, sono Fabio Ambrosi e oggi vedremo come organizzare il nostro materiale multimediale all'interno del pannello progetto di Premiere 2019. Prima di iniziare però un consiglio, venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it perché all'interno del mio sito, in costante evoluzione e in costante cambiamento, ve lo dico subito, potete trovare un'area chiamata Video Tutorial Adobe Premiere 2019 in italiano e all'interno di questa sezione troverete un indice con tutte le lezioni che abbiamo fatto fino ad oggi e soprattutto con le lezioni che ho intenzione di realizzare nelle prossime settimane. Soprattutto se volete recuperare un argomento che abbiamo visto nelle settimane precedenti, qui c'è scritto più o meno tutto o quasi quello che ci siamo detti a voce nel corso di queste video lezioni, quindi se vi serve di recuperare qualcosa al volo senza perdere tempo a rivedere l'intero video, questo potrebbe essere un materiale a voi comodo www.fabioambrosi.it Registratevi anche al canale YouTube così che se esce un nuovo tutorial siete sicuramente aggiornati. Detto questo possiamo tornare finalmente ad Adobe Premiere e al punto in cui ci eravamo lasciati la settimana scorsa. Quando abbiamo visto come importare del materiale all'interno del nostro software di montaggio. Quest'oggi non ritornerò ancora sui metodi per importare del materiale multimediale, guardate la lezione precedente se volete capire come fare, se non ve lo ricordate. Oggi importiamo un po' di materiale per organizzarlo nella maniera corretta. Prendiamo una fotografia, anzi due fotografie, un file audio e perché no, due clip video. Prendiamo una e due, via. Sto tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera in Windows. Sul Mac non ricordo il tasto, mi dispiace. Su Windows, tasto CTRL e selezioniamo tutte le clip che vogliamo importare. Clicchiamo sopra ad apri e, come per magia Premiere, importa tutto il materiale multimediale che noi vogliamo lavorare. Nella scorsa puntata abbiamo visto anche come importare un'intera cartella con un click. Andatevelo a rivedere se non ve lo ricordate. Per un motivo che vedremo tra poco, voglio creare anche una timeline, ok? Così che possiamo vedere un po' una panoramica di tutti gli oggetti che più o meno potremo incontrare nel nostro pannello progetto. Quindi creo una timeline, non vi preoccupate, vi insegnerò nella prossima lezione a crearne una in maniera impeccabile. E per oggi concentriamoci solo ed esclusivamente sul pannello progetto. Dimentichiamo tutti gli altri pannelli, avremo tempo e modo di vederli, ok? Allora, cominciamo col dire che quando importiamo il nostro materiale multimediale, noi montatori vogliamo sapere subito, a colpo d'occhio, cosa abbiamo in mano. Senza perdere tempo a capire se è una fotografia, è una clip video o un file audio. E Premiere in questo ci aiuta molto, perché se fate caso, tutte queste icone sono icone sostanzialmente differenti, diverse anche per tipologia. Ingrandisco meglio così potete vedere di cosa sto parlando. Questa è una sequenza. Da cosa me ne accorgo? Dal fatto che qui è scritto sequenza? Assolutamente no, perché questo file potrebbe chiamarsi anche in un'altra maniera. E io potrei non capire che questa è una sequenza. Mi accorgo che è una sequenza da questa piccola icona. Questa icona che rappresenta dei piccoli blocchettini, in qualche modo stilizza, se si può dire stilizza, ma lo diciamo uguale, ok? Una sequenza, ok? Quindi i vari oggetti multimediali presenti all'interno di questo pannello in qualche modo hanno delle caratteristiche che ci fanno subito capire che cosa sono. Ad esempio, se guardate questo oggetto multimediale con un nome tutto strano e con un'estensione .mov, già per l'estensione potremmo capire e immaginare che questo è un video. Però, se questa cosa non ci basta, buttiamo subito l'occhio a questa piccola icona che rappresenta un file audio, ok? E quindi possiamo immaginare che questa clip contenga del materiale sonoro al suo interno. In più, guardate questa linea azzurra in basso. È una sorta di timeline, se vogliamo, in miniatura. Guardate, se passo sopra con il mouse, questa riga nera che si viene a creare. Mi indica un pochettino dove mi trovo all'interno della clip. Prendo una clip un pochettino più... Vediamo di importare una clip un pochettino più chiara. Importiamo una clip. Vediamo un attimino. Eccola qua. Importiamo un'altra clip, tipo questa, ok? Guardate se io passo sopra con il mouse. Non sto premendo nulla, sto soltanto passando con il mouse sopra questa clip. Sto in qualche modo visionando in anteprima il contenuto di questa piccola clip, molto breve. E potete vedere che nella barra blu in basso c'è un piccolo puntatore che in qualche modo mi indica in quale momento del materiale multimediale mi trovo in questo momento. Quindi in altre parole, questo pannello ci permette di capire a colpo d'occhio che tipologia di oggetti abbiamo. Questo è un file audio ed è facile, dai. Non solo perché c'è l'icona che rappresenta il sonoro, quindi ci dice Ehi, guarda che questo oggetto ha del sonoro al suo interno. Ma soprattutto perché c'è una grande icona di onda, bella, eh? L'icona di onda, che ci fa capire che sostanzialmente qui dentro non c'è nient'altro che dell'audio, ok? Queste sono fotografie, no? Lo riconosciamo, anzi questa è una fotografia, lo riconosciamo perché non c'è nessun simbolo di audio in basso a destra, il che non vuol dire nulla. Potrebbe anche essere un video muto, no? Quando non c'è il simbolino dell'audio, probabilmente potrebbe anche essere una clip senza appunto il sonoro. Però non c'è nemmeno la barra azzurrina in basso. Quindi questa è sicuramente una fotografia, come questa è anche una fotografia. E comunque lo capiamo dall'estensione JPEG, ok? Tutto questo pippone per dire che Premiere ci fa capire già a colpo d'occhio che tipo di oggetti multimediali abbiamo importato nel nostro progetto, nel nostro pannello progetto. Vi avevo detto che oggi vedremo un attimino come organizzare bene il materiale. Cosa significa? Significa che nella migliore delle ipotesi un montatore quotidianamente deve maneggiare con una velocità il più elevata possibile tanti file. Un montaggio di un film può avere migliaia di file in cui districarsi. Stessa cosa per un documentario, ma anche un servizio giornalistico ha decine e decine di clip da dover selezionare, tagliare e gestire. Come fa Premiere ad organizzare questo materiale? Come fa Premiere ad aiutarvi ad organizzare questo materiale? Premiere utilizza dei raccoglitori. Un raccoglitore non è altro che una cartella, no? Un po' come voi sul vostro computer per organizzare i vostri file avete la possibilità di creare delle cartelle. Allo stesso modo Premiere vi permette di creare delle cartelle. Cartelle che in Premiere prendono il nome di raccoglitori. Quindi un raccoglitore in Premiere è sostanzialmente una cartella. Visto che a seguire questo corso ci sono anche persone che magari vengono da altri software come per esempio Avid, a voi dico che una cartella in Premiere può essere intesa un po' come quelli che sono i bin dentro ad Avid. Non mi dilungo ulteriormente. Piuttosto, come si crea una cartella? Ecco, per creare una cartella esistono principalmente due modi, no? Poi in Premiere ce ne sono sempre di più. Però principalmente due sono i modi principali per creare una cartella. Il più immediato e il più intuitivo, tasto destro del mouse, dentro al pannello progetto, nuovo raccoglitore. E subito Premiere, cliccandoci sopra, crea un nuovo raccoglitore che possiamo chiaramente nominare come vogliamo. Ciao, un raccoglitore ciao dentro cui andiamo ad inserire delle clip che a noi piacciono particolarmente. Per esempio, c'è un altro modo. Io vi consiglio sempre di utilizzare la tastiera il più possibile e la combinazione di tasti per creare un raccoglitore, una cartella in Premiere, è Ctrl B. Premendo i tasti Ctrl B in Windows, potete creare un raccoglitore. Chiaramente nominarlo come volete. Come la chiamiamo? La chiamiamo brutta. Ha fatto una cartella che si chiama brutta. Va bene? Vuol dire che io lì dentro andrò a mettere materiale brutto. Non è proprio così. Il materiale brutto evitiamo di importarlo. Lo spazio è molto importante. Però ecco, noi in questo modo abbiamo creato sostanzialmente due cartelle. Come facciamo a portare il materiale dentro le cartelle? 30 secondi per rispondere... No, ve lo dico subito. Basta trascinarlo. Prendo un file, lo porto dentro. Prendo un altro file e lo porto dentro. E il materiale mi comincia a sparire dal pannello progetto e mi va a popolare queste due cartelline che automaticamente, ok, conterranno il materiale che ho importato. Chiaramente se guardate, se leggete bene non so se si vede, lo ingrandisco Premiere ce lo dice che in queste cartelle c'è del materiale, ok? Un elemento, due elementi vuol dire che qui dentro ci sono due elementi qui dentro ce n'è uno soltanto. Come potete ben immaginare se io clicco due volte ecco che vado a vedere quello che è il contenuto della nostra cartella, ok? In questa cartella c'era soltanto questa fotografia e quindi... Ok, niente, basta. Abbiamo poco con cui lavorare in questa cartella. Per tornare indietro è semplicissimo non è forse molto intuitivo ma ve lo dico subito c'è questo tastino in alto a sinistra vicino al nome del progetto con cui state lavorando questa cartellina la premete una volta e ci riporta indietro sostanzialmente di un livello, ok? Quindi abbiamo imparato come creare delle cartelle e popolarle con dei file. Molti potranno domandarsi come facciamo a tirar fuori il materiale dalle cartelle? Allora, stiamo lavorando con una visualizzazione in Premiere che si chiama visualizzazione ad icone che vuol dire? Vuol dire che noi stiamo visualizzando un po' le anteprima dei materiali che stiamo lavorando. In questa visualizzazione ad icone per poter tirar fuori del materiale multimediale da una cartella dovete utilizzare un piccolo stratagemma il classico CTRL X CTRL V cioè, in altre parole il famoso copia e incolla o taglia e incolla funziona bene in tutta l'informatica non vedo per quale motivo non debba funzionare bene anche in Adobe Premiere. Quindi io seleziono il materiale tenendo premuto il tasto sinistro del mouse vedete, sto creando una selezione e premo il tasto CTRL X che taglia non sono sparite, non vi preoccupate le ha solo tagliate torno indietro di un livello CTRL V e le mie due clip sono tornate nel pannello nel pannello principale. Esistono altri modi di visualizzare il nostro materiale multimediale? Assolutamente sì ma lo scopriremo nella prossima puntata quando vedremo l'organizzazione del materiale ad elenco in questa lezione abbiamo visto come visualizzare il materiale ad icona nella prossima lezione vedremo come organizzare il materiale o meglio come visualizzare il materiale multimediale nella modalità ad elenco registratevi iscrivetevi al mio canale YouTube per restare sempre aggiornati con le lezioni che di volta in volta vengo aggiungendo molti mi chiedono di aggiungerle più spesso cerco di fare il possibile commentate le lezioni se volete domandare qualche cosa per quello che posso cercherò di rispondere a tutti se volete criticare e aggiungere magari perché no qualcosa a quello che dico fatelo perché non sono un guru Adobe non ho nulla a che fare con Adobe purtroppo sto cercando di insegnare quello che so se qualcuno ne sa più di me e vuole commentare questo video e aggiungere qualcosina è più che libero di farlo e anzi viene anche apprezzato particolarmente quindi commentate e nella prossima lezione andremo avanti con il pannello progetto di Adobe Premiere alla prossima